Parto dalla fine, nel senso che uscire tra i fischi non è sicuramente una cosa piacevole, né è avvenuta molte volte nella mia permanenza a Trieste, evidentemente ce li siamo meritati, perché perdere con questo scarto assolutamente non è accettabile. Penso altrettanto onestamente, l'hai detto tu nella domanda, che oggi la squadra ci abbia provato. Oggi la squadra ci abbia provato, abbiamo subito una sbandata a fine del primo tempo, siamo andati fino a meno 17 se non erro, adesso non ho la certezza, 19, siamo rientrati sul meno 11, siamo rientrati nel terzo quarto e fino al tiro con Campogrande poteva realizzare il meno 4. Altrettanto onestamente penso che l'ultimo quarto sia insufficiente e onestamente la benzina era finita. Quindi da quel punto di vista a vedere Bartley che esce due volte con i crampi, Corey Davis che pressa il playmaker a tutto campo per tutta la partita e potrei andare avanti. Ci sono giocatori che devono ancora imparare a stare a questo livello, ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare partite per competere a questo livello e sicuramente affrontare Bologna, Venezia e Tortona nelle prime quattro giornate di campionato penso sia un master per alcuni giocatori che stanno facendo le scuole superiori. Bisogna comunque discutere con la società di qualche testo di mercato? Guarda, per essere onesti non dovete fare a me questa domanda. Io, come ho detto Andrea, alleno chi ho in palestra dal lunedì alla domenica e non ho niente da aggiungere a questo. Quindi non è una domanda personalmente a cui voglio rispondere io. Grazie. Grazie.